Salute a tutti, ho scaricato l'iOS 4.0 Golden Master, la versione per 3GS, lo potete vedere sia perché c'è Bing come motore di ricerca, si mette a fuoco, e sia dalle informazioni. Ecco, potete guardare il codice della versione. E niente, non ha bisogno di attivazione l'UDID, quindi se vi interessa provarlo, dato che esce tra 15 giorni, non potevo aspettare altri 15 giorni, stavo imprezzendo, mandate un messaggio privato e io vi invierò il link sia per scaricare i vari iOS e per scaricare iTunes Beta 9.2 che supporta anche le folders e altre funzioni dell'iPhone OS 4.0. Bene, saluto a tutti!